Sul Piemonte iniziano ad esserci i primi segnali legati alla siccità e l'assenza di pioggia e la poca neve caduta mettono a rischio le semine di cereali e legumi, i pascoli, l'ortofrutta e le vigne. Così si legge in una nota, emessa da Coldiretti Biele Vercelli, che lancia l'allarme sui dati dell'ARPA che indicano temperature regionali superiori alla media di 1,7 gradi e il 5 gennaio più caldo dal 1958. L'agricoltura e l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, commentano il presidente di Coldiretti Roberto Guerrini e il direttore Luciano Salvadori. Ma è anche il settore più impegnato per contrastarli e questo obiettivo richiede un impegno ed una maggiore flessività da parte delle istituzioni competenti. Proprio in questo scenario, dunque, serve un protocollo d'intesa con Ovet Assesia per prevenire, per individuare, per gestire queste situazioni critiche. E' dunque necessario, attraverso un'attenta pianificazione, mettere in atto interventi strutturali per efficientare le risorse idriche. Ad esempio, si legge ancora nella nota di Coldiretti, accelerare la realizzazione di invasi che possono garantire acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica.